Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, presente oggi a Casa Azzurri ha analizzato la prestazione di Nicolo Barella, è un giocatore che all'umiltà del gregario ma anche del talento. Come giocatore è moderno e completo. Può giocare nel ruolo di Cialano Lu? Sì, ha tutte le qualità visione appoggio e lancio, oggi è un giocatore dal punto di vista agonistico molto valido, tecnico di base forte, è un giocatore eclettico. Sul blocco Inter, l'Italia è il patrimonio che deve unire tutti i club, il fatto che ci sia questo zoccolo duro di interisti diventa un internazionale, ci riempie d'orgoglio per tutto il lavoro fatto e per la crescita che hanno avuto i ragazzi, i complimenti? Li ho fatti a tutti, siamo molto orgogliosi che l'Inter possa dare il suo contributo. Inter, Marotta sui rinnovi di Lautaro e Inzaghi.Ci sono altri rinnovi in programma, siamo attenti a tutto, l'importante è che ogni giocatore abbia forte senso di appartenenza, che voglia continuare l'esperienza con noi, abbiamo una situazione tranquilla, non abbiamo giocatori che si svincolano nell'immediato, il rinnovo di Lautaro è virtualmente fatto, si tratta di raccogliere la firma, non è semplice perché è in Argentina, ma è già fatto. Anche per Inzaghi, sì sì.